terza e ultima puntata sulla Bessa R di Feiglender qui abbiamo montato un 35 F2.5 Feiglender quindi mettiamo su 35 la cornicetta luminosa la ghiera dei diaframmi da F22 F2.5 con i mezzi stop la ghiera della messa a fuoco dall'infinito fino a 0,90 centimetri in un istante è possibile sostituire l'obiettivo anche se l'attacco non è a baionetta qui montiamo un obiettivo più prestigioso che è sempre della Feiglender con lo scopo al 50 mm 2.5 di nuovo ghiera dei diaframmi con i mezzi stop ghiera della messa a fuoco da 0,75 centimetri all'infinito una rivisitazione un'alternativa della vecchia laica vite con l'enorme differenza che qui abbiamo un esposimetro TTL incorporato di una qualità veramente incredibile e insuperabile un buon ferragostino buona serata a tutti dal vostro Gerardo Bonomo Grazie mille! Grazie a tutti.